Tutto in questo cos'è? Sì, così sta tutto. Almeno... Devi presentare? C'è Arsasimo Simone, vod 3. 22 e mezzo. Due metri. Sposta. Due metri. Ah, devi... no. La larghezza si vede. Al massimo il dumbbell lo sposto per i pistol, più centrale, se non si vede bene. Sì, tanto c'è tutto lo sposto di qua. C'è nel senso, se vuoi metterti anche fin qua. Tanto. Ok. 13 minuti. 13 minuti. Vado. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Super Simo. Grande. Dai figa. Dai dai. Bravo. Grazie a tutti. 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 2 minuti 2 minuti 2 minuti 20 secondi provaci 20 secondi provaci 2 minuti 2 minuti avviene 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 Grazie a tutti.